Vado bello, vado a Cicciama, questo programma di 14, però prima avevo questi indagini, non visti, sono qui con noi, direi da mia amica, da qui, sono venuti a trovarci, mi passano con noi in un'intera Germana, per un applauso per voi, sono un'amata alta, molto inizia, però faccio il segno dei nostri piccoli, sono divertiti, hanno scoperto una bellissima giornata, adesso interranno in campo invece con i nostri grandi, però partiamo di cospesi. Con il numero 51, Luca Monte, con il numero 80, Giovanni D'Angelis, con il numero 22, con il numero 60, Giovanni D'Avato, con il numero 60, Giovanni D'Avato, con il numero 69, Giovanni D'Avato, con il numero 69, Giovanni D'Avato, con il numero 3, Carolina Ghiutti, con il numero 75, Antonio D'Avato, con il numero 75, Antonio D'Avato, con il numero 76, Antonio D'Avato, con il numero 62, Giovanni D'Avario, con il numero 82, Giovanni D'Avato, i gesti, il coloro, i gesti, il dirigente, il Association, Vittorino D' impreso, il rete fosse che negli anni passi, con il numero 65, Giovanni D'Avato, potrò, le eximpianteenter, con il numero 22 Alessio Novello con il numero 15 Gianluca Vinci con il numero 9 Luciano Cavallini con il numero 10 Silberto Prodico con il numero 5 Ivan Pujano Vinci con il numero 33 Duomo Vinci con il numero 20 Silberto Prodico con il numero 7 Andrea Santiti con il numero 20 Silberto Prodico con il numero 14 Marti Adriano Modrina con il numero 4 Ivan Pujano Vinci con il numero 14 Marti Adriano Modrina con il numero 5 Silberto Prodico Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.